Sono stati rintracciati nel pomeriggio di ieri i due imbrattatori delle colonne che sorreggono il corridoio vasariano. Si tratta di due turisti tedeschi, tifosi del Monaco 1860, in vacanza a Firenze dal 20 agosto. La firma l'hanno lasciata loro stessi alle 5.20 del mattino, DKS 1860, una lettera su ogni colonna. Fondamentale per i carabinieri della stazione degli uffizi, le molte telecamere di sorveglianza che ci sono nella zona. Uno di loro scavalca il parapetto e compie il gesto, mentre l'altro svolge le funzioni di palo. Sempre l'attività di visualizzazione dei filmati di videosorveglianza ha permesso di ricostruire i spostamenti dei soggetti che sono stati notati uscire da una affittacamere di lusso in centro storico, in particolare Piazza della Signoria. È lì che i carabinieri hanno fatto accesso, rinvenendo all'interno dell'abitazione ben 11 giovani di nazionalità tedesca, tutti sui 20 anni e tutti nati o residenti per la gran parte della città di Monaco di Baviera. Tra questi soggetti appunto i due soggetti ritenuti autori dell'imbrattamento. L'appartamento è stato perquisito e i carabinieri hanno trovato le bombolette di vernice spray nera usata per il gesto vandalico. La firma Oltras è anche stata approvata dalle foto rinvenute sui telefonini dei giovani che sono stati sequestrati. In particolare sono state rinvenute immagini di 30 giovani con il logo, con l'abbigliamento riportante il logo della squadra, ma in particolare è stata anche rinvenuta la foto dell'opera compiuta su Firenze. Cioè loro hanno immortalato il loro imbrattamento per, presumiamo, anche postarlo su qualche sito online. I due giovani sono stati deferiti in stato di libertà, il reato contestato e il danneggiamento aggravato. Ovviamente c'è anche tutta la parte civilista, quindi dovranno anche provvedere al rimborso delle spese per il ripristino dello stato di libertà.